Anche Fornaci di Barga ha voluto festeggiare Santa Barbara e lo ha fatto domenica scorsa con una partecipata cerimonia che si è aperta con la Santa Messa ed è proseguita poi nei pressi dell'imponente monumento dedicato alla marina militare e ai suoi caduti, posizionato alla rotonda dell'ingresso della cittadina. Nella Valle del Serchio, soprattutto in passato, per la Santa Protettrice del Fuoco esisteva una vera e propria venerazione, in quanto Santa Barbara era anche la protettrice dei minatori e noi tutti sappiamo quanto questa terra abbia fornito mano d'opera alla realizzazione di gallerie stradali e condotti idrici. Oggi la Santa è ricordata soprattutto come patrona dei Vigili del Fuoco e dei Marinai. Questi ultimi ogni anno ricordano la Santa e lo fanno con la deposizione di una corona d'oro alla presenza di autorità civili e militari. Dopo l'alza bandiera si sono susseguiti i saluti e gli interventi delle autorità. Il capogruppo Maurizio Bianchi ha ricordato le finalità della celebrazione, a seguire l'assessore Giampiero Passini e la vice sindaco Caterina Campani. È una ricorrenza a cui teniamo molto di grande significato e di grande commozione per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita per i valori della pace, della democrazia, della libertà, ma anche coloro che sono morti sul posto di lavoro. Chiaro riferimento alla tragedia di Genova del 7 maggio 2013, dove a causa di una manovra sbagliata persero la vita, insieme ad altri colleghi di lavoro, anche i barghigiani Marco De Candussio e Michele Robazza. Fornace di Barga ha sempre avuto una vicinanza con la marina eccezionale. Questa vicinanza continua a esserci nel tempo e molte persone che vivono qui nella alta valle del Serchio continuano a operare per il mare, sul mare, per il benessere della nostra comunità. Abbiamo ricordato oggi i De Candussio, periti nella tragedia di Genova e abbiamo ricordato tutti coloro che si sono immolati sul mare nel corso della Seconda Guerra Mondiale.